E ciao a tutti amici pagagliatori e bentornati sul mio canale. Oggi torno a recensire un sup gonfiabile della Cressi, si tratta del modello Element Allround da 10 piedi e 2 pollici. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il sup, una volta gonfiato, risulta molto solido e duro al pari di una tavola rigida. Questo è possibile grazie alla particolare struttura interna della tavola, detta Double Wall Fabric, composta da una fitta rete di fili che permette di gonfiare il sup fino a 15 psi di pressione, ottenendo quindi una superficie molto rigida e senza rischio che questa possa deformarsi. Alla prova pratica, in acqua, mi ci sono trovato bene a pagagliare. È molto stabile e si riesce a mantenere la posizione in piedi senza difficoltà, anche con un mare leggermente increspato. La tavola è risultata piuttosto veloce e scorrevole sull'acqua, visto che in meno di 3 ore ho percorso circa 10 km. Ottima è soprattutto la sua maneggevolezza, che lo rende agile e reattivo nelle manovre. Di contro, questa sua manovrabilità crea qualche difficoltà in più a mantenere la direzione desiderata, costringendo a cambiare più spesso il lato della pagagliata rispetto ad altre tavole che ho provato precedentemente. Questo è dovuto principalmente al fatto che nella parte inferiore è presente una sola pinna, a differenza, ad esempio, del modello Travelite, sempre della Cressi, che monta due skeg. Trovo quindi che sia più adatta per chi preferisce pagagliare molto vicino alla costa, passando anche tra rocce e scogli, piuttosto che viaggiare in mare più aperto o in linea retta. La qualità della tavola è sicuramente ottima e la Cressi, da questo punto di vista, è una garanzia. È lunga 10 piedi e 2 pollici, che corrispondono a circa 310 x 81 cm. I materiali usati sono molto buoni, con un PVC esterno robusto e un pad a rombi, che garantisce un buon grip anche a piedi nudi. Sulla parte anteriore è presente un comodo elastico, dove poter posizionare lo zaino o una sacca stagna, mentre al centro si trova una maniglia per poterlo trasportare. La tavola anche da gonfia risulta leggera e trasportabile facilmente anche da una sola persona. Mancano però le due maniglie a poppa e a prua nel caso in cui si sia in due a portarlo. È dotato di una valvola per il gonfiaggio ad alta pressione, con un pin centrale che deve rimanere in posizione alzata mentre si gonfia, e va premuto solo quando si vuol far uscire l'aria dalla tavola. Viene fornita un'ottima pompa che permette di gonfiare velocemente il SUP, visto che applica una doppia azione, immettendo aria sia in fase di spinta sia in quella di tirata. Quando si incomincia a fare troppa fatica in fase di tirata per via della pressione elevata, si può ruotare la leva sulla pompa, così da gonfiare solo durante la spinta. La tavola può essere gonfiata fino a un massimo di 15 PSI, ma è consigliato portarla ad una pressione leggermente inferiore, intorno ai 13 PSI, in quanto altrimenti si rischierebbe di rovinare la tavola, visto che nelle ore più calde il calore del sole farà aumentare la pressione al suo interno. Una volta sgonfio è possibile ripiegarlo su se stesso in modo da poterlo trasportare comodamente. Devo però dire che la differenza con il modello Travelite è davvero notevole, pur essendo simili come dimensioni, questo occupa molto più spazio da chiuso e la portabilità dell'altro modello rimane insuperabile tra quelli che ho potuto vedere finora. Il set che si riceve è completo di tutto e permette di andare subito in acqua a provarlo. Infatti oltre allo zaino per il trasporto e alla pompa per il gonfiaggio, viene anche fornita una pagaia di buona qualità. È composta da tre parti e risulta molto solida e leggera a una volta montata. Si può regolare molto facilmente in lunghezza in base alla propria altezza. Concludendo, trovo che sia una buona tavola da SUP questa Element Allround della Cressi. Il set è ben realizzato e la tavola è di ottima qualità, molto stabile e maneggevole in acqua. Il prezzo però lo trovo troppo elevato, considerando che costa uguale al modello Travelite, che ritengo migliore soprattutto perché occupa molto meno spazio una volta chiuso, risultando così molto più comodo anche da trasportare. Spero che la recensione vi sia stata utile. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi nei commenti. Se volete poi seguire i miei prossimi video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un saluto a tutti e alla prossima recensione.